Oggi, molto spesso, sperimentiamo che la nostra fede viene messa alla prova dal mondo e in moltissimi modi ci viene chiesto di scendere a compromessi sulla fede, di diluire le esigenze radicali del Vangelo e conformarci allo spirito del tempo. E tuttavia i martiri ci richiamano a mettere Cristo a di sopra di tutto e a vedere tutto il resto in questo mondo in relazione a lui e al suo reino eterno. Esci ci provocano a domandarci se vi sia qualcosa per cui saremmo disposti a morire. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e dove Cristo continua a chiamare, ci chiede di amarlo e servirlo, tendendo la mano ai nostri fratelli e sorelle di sognosi. Grazie per la visione.